La città dei vivi e la città dei morti, Ferdinando Fuga, architetto della ragione. Nella seconda metà del Settecento, il secolo d'oro di Napoli, la politica sociale perseguita dai Borbone vide la progettazione di due grandi interventi architettonici, il real albergo dei poveri, 1751, e il cimitero delle 366 fosse, 1762. Tra gli interventi edilizi dell'epoca, gli esperimenti sociali più interessanti atti a rispondere alle esigenze di una città capitale in espansione vertiginosa. Napoli divenne allora capitale del regno, anche grazie ad una radicale trasformazione edilizia, senza uguali in Europa. La reggia di Capotimonte, quella di Portici, la Biblioteca Nazionale, il Foro Carolino, attuale Piazza Dante, e il Teatro San Carlo segnano la storia di Napoli di quegli anni. Per la stessa mappa topografica della città commissionata a Giovanni Carafa, Duca di Noia, occorreranno ben 24 anni tra redazione e stampa, per includere il quadro completo delle opere urbanistiche partenopee. Ma Napoli divenne capitale anche forzatamente, sotto la spinta della pressione demografica pare di quasi 300.000 anime e le plebbi provenienti da tutto il regno. Il reale albergo di poveri in Piazza Carlo III, che i napoletani chiamano serraglio o anche reclusorio per via dell'uso diversificato e tragico che ne è stato fatto nei secoli, è uno degli edifici più grandi del Settecento europeo ed internazionale, 350 metri di facciata, oltre 400 stanze su quattro livelli, per uno dei più grandi progetti mai completati che doveva accogliere 8.000 poveri, tra mentiganti e vagabondi, che riempivano le strade della capitale napoletana e tentarne anche un avviamento alla rieducazione artigianale. Dopo il sisma del 1980, entra a far parte del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli e dal 2005 è oggetto di un lungo e travagliato restauro, che nell'autunno del 2011 ha visto un ulteriore stop da parte della Procura per le indagini su presunti interessi nei lavori da parte della criminalità organizzata. Nella mente di Re Carlo, l'albergo doveva rappresentare il simbolo della pietà illuminata della Casa dei Borbone verso i propri sudditi. Fu scelta un'area strategica situata lungo la principale arteria che si dirigeva verso l'entroterra da Via Foria e saliva verso la cosiddetta via del Campo o Caput d'Eclivio, oggi Capodichino. Grazie al Real Decreto del 25 febbraio 1751 per la costruzione di un generale albergo dei poveri, inizia a Napoli una delle più grandi esperienze assistenziali europee. In realtà il real albergo non sarà mai completato e dei cinque cortili previsti ne verranno realizzati solo tre. Attualmente il real albergo dei poveri, con i suoi oltre 100.000 metri quadrati di pura architettura mai terminata dal geniale architetto fiorentino Ferdinando Fuga è il segno materiale della trasformazione di Napoli in capitale, il simbolo dei suoi problemi sociali irrisolti. Il suo gemello ideale si trova a Palermo, dove i Borbone, nell'ambito della medesima ideologia della pietà illuminata e quel tanto di pragmatismo che permetteva loro di tenere a bada le città assediate dalla povertà, perseguirono analogo progetto, l'albergo dei poveri di Palermo, in vero già iniziato nel 1733 sotto il vicereame austriaco. Nelle 430 stanze attuali e nei cortili dell'edificio partenopeo è passata molta umanità e molte tragedie individuali e cittadine. Per godere di questo capolavoro che anticipa l'architettura della ragione del secolo dei Lumi e la sua lunghissima storia può essere indagato un anno fondamentale, il 1764. L'albergo nel progetto iniziale era destinato a raccogliere poveri, sbandati, ma anche sordomuti e fanciulli abbandonati. Il 1764 è un anno particolarmente orribile per l'estesa carestia che aveva colpito ormai da tempo tutta l'Italia del sud. I tumulti erano quotidiani e Napoli ne era sconvolta. Mancava nelle province e nei piccoli paesi ogni mezzo da vivere e venuto meno il lavoro, la gente più misera, con tutto lo squallore del suo tristo stato, lasciava le campagne natie e si portava a grosse carovane nei comuni più ricchi, a sollecitare la pubblica carità. A questi si aggiunse una moltitudine di contadini e di poveri delle vicinanze di Napoli. Queste carovane prendevano tutte la via di Napoli e nel passaggio dominavano sulla nuda terra. E perduto ogni rispetto di leggi e del pudore, lasciavano sul loro passaggio le tracce delle più sozze turpitudini. I toni di questa cronaca proseguono sprezzanti per quei poveri che arrivarono in città e per cui si vennero a creare tanti vomiti di miasmi che inquinavano l'atmosfera e diventavano perniciosi sorgenti di malattie. Il medico Capasso, nella sua cronaca di migrante fortunato da fratta maggiore, scrive In quest'anno nuovo del 1764, durando ancora la penura di ogni sorta di viveri, nel mese di febbraio mi trattenni cinque giorni a Napoli e tanta era la concorrenza dei poveri in quella città, giunti dall'Apruzzo, dalla Puglia e da tutta la costiera della Marina, che non vi era luogo dove a schiera non si vedevano veri e propri, con la faccia squallida, con le ossa spolpate, con le carni lacere, pitoccare per ogni vico. Così le torme che si riversarono a Napoli nei primi mesi del 1764, che alcuni calcolano in cifre di almeno 40.000 persone, una stima impressionante per l'epoca, furono rifocillate anche con i grani di scarsa qualità che affluivano dalle navi avide. E tra aprile e ottobre 1764 accadde l'inevitabile. Scoppiò il morbo delle febbri putride. E oggi possibile definire le febbri putride come un'epidemia di malnutrizione causata dalla carenza alimentare cronica e soprattutto dalla mancanza di vitamine, probabilmente scorbuto, beriberi, pellagra e diatesi emorragica. Si sparsero per la città uccidendo migliaia di vite, combinandosi alle precarie condizioni igienico-sanitarie. Una tragedia della povertà che era da tempo nell'area di Napoli, soprattutto dopo gli avvenimenti tragici della peste del 1656. Con oltre 200.000 morti questa strage vagava ancora nelle menti dei napoletani sopravvissuti. Drammaticamente tutti furono convinti che il problema della città fossero i poveri. Furono dapprima accusati i poveri e i contadini ed anche i mercanti che ad un certo punto, nonostante la grave crisi alimentare, furono costretti a gettare il mare e il grano perché ritenuto infetto. Le cronache ci aiutano anche a ricostruire come questa metropoli settecentesca inglobò una massa di persone incredibile. Senza l'esplosione demografica, mentre la carestia imperversava in tutto il sud, non riusciremmo a capire perché ci fu necessità di queste poderose invenzioni architettoniche del fuga. Si cercò subito, ma fuori tempo, ripararvi e mentre i poveri si chiudevano nel reclusorio e nel quartier di cavalleria al ponte della Maddalena, si crearono commissioni di periti e medici per esaminare i grani, dei quali non meno di 120.000 tomoli furono gittati in mare. Il sovrano allora si spostò di corsa a portici per paura del contagio e i nobili si ritirarono in controesodo nelle campagne. Molte novene e tridui furono pagati per le anime della città e la sua guarigione. Con i primi caldi primaverili però la città esplodeva di vivi e soprattutto ormai di morti. E qui compare nelle cronache la funzione centrale del reale albergo dei poveri o conservatorio dei poveri o reclusorio e contemporaneamente l'uso del cimitero delle 366 fosse. Il grande edificio dell'albergo dei poveri dopo la sua iniziale ideazione di in piena epidemia non era certamente concluso né lo sarebbe stato mai ma venne utilizzato nel migliore dei modi allora possibile. Grazie al Domenicano padre Gregorio Maria Rocco i malati vedivano lavati e medicati, le vesti bruciate ma a quanto pare non appena il pio frate si distrasse un attimo del governo della città prese in mano la situazione una parte dei mendicanti del reale albergo fu trasferita al quartiere militare del ponte della Maddalena mentre gli incurabili e gli infermi del quartiere militare furono spostati nell'albergo. Così nell'ospedale dell'albergo dei poveri dagli iniziali 500 malati che poteva accogliere una real commissione di dotti e medici decise che ve ne potevano essere ammassati ben 1700. Stipati malamente, contagiosi, vivi e cadaveri venivano così a stretto contatto. Era il 29 maggio del 1764 mescolando i sani con i contagiati la città fu definitivamente perduta. Nel giugno dello stesso anno ormai la situazione era catastrofica. La reggia commissione consigliò tra l'altro di moltiplicare e spostare gli ospedali possibilmente fuori dalla città nelle campagne lontane dai rioni abitati, di bruciare i vestiti dei malati che vi si raccoglievano dopo averli rasi e ripuliti sull'esempio di quanto fatto da padre Rocco nel reclusorio e di far seppellire i cadaveri immediatamente dopo il decesso. Furono allora aperti a Napoli altri 20 ospedali pertinenti agli ordini di ogni chiesa e luogo sacro e i gesuiti, già invisi alla monarchia, proposero di dare l'ostia per mezzo di una bacchetta pur di non avvicinarsi ai fedeli. Narrano le cronache che di conseguenza molti vivi furono sepolti tra i morti per sbaglio, perché incoscienti o gravemente malati, ma la città era devastata dalla paura e anche molti delitti riuscirono a mescolarsi nella tragedia collettiva. Le aree dei ricchi conventi di Posillipo, allora isolati dal nucleo principale della città antica di Napoli, vennero lasciati ai ricchi frati, senza essere toccati dalla tragedia, con l'eccezione dell'ospedale di Marina delle case di Don Anna. Come se non bastasse, l'area est della città dove era allocato il real albergo e il quartier militare al ponte della Maddalena, divenne anche il deposito delle carcasse degli animali e vi fu costruito vicino persino il nuovo mattatoio. Animali e umani continuavano così a confluire in quell'area di confine. Nonostante altri decreti urgenti, molti cadaveri, specialmente quelli dei nobili e della borghesia ricca venivano ancora sepolti in città nelle chiese. Anche se fu ordinato di seppelire a ben otto palmi da terra e si prese l'abitudine di gettare calce viva sulle salme, l'enorme numero dei decessi quotidiani non assicurava ormai alla città più possibilità di scampo. Le chiese esplodevano di cadaveri, fungendo da fulcri di epidemia e se stesse. La commissione regia propose allora persino un nuovo camposanto nell'area di Bagnoli pur di tener lontani i miasmi, ma non fu mai costruito. A Bagnoli comunque presisteva già il vecchio cimitero, ma le sepolture erano malfatte e frettolose. E si lasciarono anche i cadaveri ai cani, talmente era il caos a prevalere in città che si dovette ordinare di controllare anche i vecchini e i carrettieri. Se nel bene e nel mare il real albergo funzionò da collettore dei poveri e degli ammalati, così come era nell'iniziale intenzione della casa regnante, il 1764 fu l'anno in cui l'enorme complesso entrò tragicamente nella storia della città partenopea, ammassando ai margini della città gran parte dei malati di febbre potride. Questa mastodontica architettura rimaneva l'unica speranza per una città ormai sommersa dai morti e dall'egoismo di molti. Poco distante dall'albergo dei poveri, due anni prima delle esplosioni delle febbri, venne progettato dallo stesso fuga uno dei cimiteri più importanti di Napoli, d'Italia, il cimitero delle 366 fosse. Sotto la collina del Poggio Reale, scelta come dice il nome già dai precedenti dinastica, come meta di villeggiatura extracittadina Poggio Reale, c'era la grande palude della zona est della città. Oggi non possiamo vederla più, perché il centro direzionale, tra le altre follie urbanistiche, si è poggiato sopra uno dei luoghi più malsani della periferia antica di Napoli. Lungo le falde in discesa del Poggio Reale, la cui strada portava verso le Puglie, venne quindi progettato il complesso delle 366 fosse, il primo intervento sistemico e il razionale dell'area che al tempo dei Greci era già stato utilizzato per le cavi di estrazione del tufo e nei secoli aveva ospitato l'antica Santa Maria del Pianto con i cadaveri degli appestati del 1656. Nelle cronache a cavallo dell'unità d'Italia, il cimitero delle 366 fosse è menzionato come il primo esperimento del genere. Anno 1762, 4 settembre, si dà principio alla costruzione di un camposanto in Napoli da contenere 366 fosse una per giorno, in sovralunghezza di 238 piedi e di larghezza 254. Serve per uso degli ospedali, delle carceri e dei poveri. L'orientamento del cimitero e le sue proporzioni si ispirano direttamente al Reale Albergo dei Poveri, con cui l'opera idealmente si ricongiungeva e soprattutto, essendo il cimitero concepito fuori le mura, anticipa di ben 42 anni l'editto napoleonico di Saint-Claude, 1804, che obbligò tutte le sepolture a spostarsi fuori dalle mura. Con il Reale Albergo dei Poveri, il cimitero delle 366 fosse completa il programma dell'assistenzialismo dei Borboni, accoglienza, malattia e morte delle plevi povere. Nel 1764, il cimitero delle 366 fosse, a due anni dall'inizio della sua progettazione, affidata a Ferdinando Fuga dal ministro Bernardo Tanucci, era completato per oltre la metà. Fu la soluzione al grave problema in quell'anno che esplodeva di moribondi. Nei sette mesi dell'epidemia delle febbri putride, pare si contassero tra i 35 e 40 mila morti in città. Quasi tutti quelli che vi erano affluiti durante gli anni della carestia, dunque, vi furono ricacciati da morte tragica. Scampati alla fame delle campagne, trovarono certo una morte peggiore in città, alla tragica media di 175 decessi al giorno. E mentre le chiese esplodevano dai cadaveri dei nobili, che allora si seppellivano entro le mura, l'architetto Fuga progettava finalmente, fuori dal perimetro cittadino, il geniale calendario perpetuo della morte delle plebi povere. Dai carteggi dell'epoca, mentre la commissione regia proponeva di ricavare ancora due enormi fosse comuni e tante altre più piccole, Ferdinando Fuga vi si opponeva ostinatamente. Fortunatamente, l'architetto godeva della massima stima dei regnanti e abbiamo testimonianza da più parti che fu ascoltato. Vuole il re che si segue il dettame dell'architetto Fuga, quale assicura che sono a ciò sufficienti quelle che si trovano per ora già perfezionate nel detto camposanto al numero di 200 e capace ognuna di più di centinaia di cadaveri, senza che vi sia la necessità di formarsi le mentovate due fosse nuove. In una cornice a cortile, il progetto del Fuga, foderando l'ultimo lembo della collina che dava sulla palude in maniera da arginare le fughe dei liquidi della decomposizione, predispose all'interno del recinto funebre una piazza quadrata, lastricata diagonalmente da conci rettancolari di pietra lavica, greggia, quello che comunemente chiamiamo qui perno. 366 botole poggiate a terra, ognuna di 80 centimetri per lato, portano un numero corrispondente a quello del giorno dell'anno. In ordine bustrofedico, senza mai incontrarsi quindi, ognuno di questi numeri corrisponde ad una botola giornaliera anche negli anni bisestili e una volta aperta immette direttamente nelle stanze di 4 metri e 20 per 4 e 20, a 8 metri di profondità. Le stanze, isolate l'una dall'altra, sono così pronte ad accogliere i cadaveri della giornata. Allineate il numero di 19 per 19 file, più altre 6 all'interno della corte coperta da un tetto a falde, 360 fosse ipogei sono collocate nella corte a cielo aperto. Fino al 1875 i corpi venivano gettati impetuosamente nel baratro delle celle, ma dopo la morte della figlia durante le vitemia di colera del 1875, la tradizione vuole che una baronessa ingrese donò al cimitero un pietoso argano per lasciare cadere i morti più dolcemente. E' ancora lì, abbandonato ad arrugginire in un angolo, a rammentarci il suo tragico uso. Dopo aver raccolto oltre 700.000 morti, ma la stima è del tutto imprecisa e alcuni parlano di almeno un milione di salme, è divenuto, dopo i fatti del 1764, diretta emanazione dell'ospedale degli incurabili. Il cimitero delle 366 fosse, è il più grande ossuario della città e fu chiuso solo nel 1890. Oggi ha bisogno di urgentissimi restauri e con il reale albergo dei poveri, i cui lavori non sono affatto completati e sono ancora lontani dalla paventata città dei giovani, aspetta che Napoli si ricordi di lui e dei resti pietosi che conserva. E' singolare leggere che anche dopo i tragici fatti del 1764 e delle numerose altre epidemie che colpirono Napoli, furono i nobili e i ricchi ad opporsi ancora lungamente al progetto